Amici Lazio, le non bentone di Freddo d'Olimpico. Oggi siamo qui a post partita a flash di Inter Shakhtar. L'Inter ha stradominato, vinto per 5 a 0, 5 pippette a 0, rifilato a Piatov. Inter proprio pazzesco, dominante. Lautaro una sicurezza, Lukaku imperiale, devastante, il suo fisico è fortissimo. Barella ha fatto una partita eccezionale, difesa, attacco, ma un po' tutti, D'Ambrosio, pure col gol, Andanovic sta a permanente. Non mi ricordo un tiro dello Shakhtar, fatto sta che l'Inter con 5 pappette va in finale di Europa League col Siviglia, come l'app magica, aveva pronosticato. Quindi l'app magica attualmente l'ha presa e tutte, dalla Champions all'Europa, da tutto. L'ha preso tutto. E niente, Inter fenomenale, partita meritatissima, pure con anche un 6 a 0. Cioè, lo 0 degli avversari è meritatissimo perché lo Shakhtar ha fatto un po' pena. Migliori in campo Barella e Lautaro. Peggiori in campo ci metto Piatov e Piatov, perché insomma ha fatto un po' schifetto. Anche il primo gol, colpa sua, poi insomma gli altri gol, sempre un po' così e così. Fatto sta che l'Inter ha ridominato, fortissima. Io, insomma, speravo per il pronostico che avevo fatto, per venire qua e dire ha preso pure questa. E niente, Rassuoli. L'Inter vince. Noi magari ci vediamo domani, fatemelo sapere nei commenti se volete un'analisi della partita, un'analisi dei gol, dell'azione. Fatemelo sapere nei commenti. E niente, noi ci vediamo al prossimo video domani. Aspettavate i supermercati e i casse veloci, proprio a go-go, perché Moda e Silva è rovente. E niente, Rassuoli, l'Inter è in finale di Europa League contro il Siviglia, venerdì 21 agosto. 2020 ovviamente. Rassuoli, iscrivetevi, commentatevi, condividetevi questo video, accendete la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzuoli. Ciao, ragazzuoli.